Ciao a tutti, eccoci su Black Desert Online Sta piovendo Sto continuando le story quest, diciamo Solo che un tipo sono arrivato al level 38 Dai provo ad andare in quella zona a vedere che mob ci sono Questi qua, che mob Aspettate che vendo No, volevo vendere Ho sbagliato il tasto Allora Vendiamo tutte queste cose Questa cos'è? Buongiorno Mi pare che così va bene E volevo vedere una cosa Quello lì No Stablekeeper Quasi quasi In un attimo qua Scendo un secondo Che Stable Ricovera Così Sono a posto Bom Vediamo Dovrebbe essere full stamina Sì, perfetto Ok Adesso Possiamo andare là Andiamo Sti mob che ci sono qua Volevo vedere se Ecco Mezzo aggrato Volevo vedere se erano ancora buoni per Xpare Perché Se sono ancora buoni Io quasi quasi Mi fermo qua E Xpare Vediamo un attimo Perché questi qua Ce ne erano un bel po' Trap Li vedo Guardate che dove Entrare in combattimento No, dai Dove dove ero Potrei farmi questi Adesso vediamo Quando ci metto a salire Questi sono verdi Se non è che faccio tantissimo Xpare Beh Un mob, dai Allora Se switchassi il canale Troverai più mob In teoria Ho droppato il sop La zuppa Che quasi quasi La mangio Ma se no come c'è La solita Quindi mangio questo Così le ho fatte fuori Tanto finché sto Espando così A scazzo Guardate quanti punti ho 17 17 17 17 Eh che cavolo Dagger Allora 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 C'erano degli altri Mob Pi' avanti Tipo qua sotto Ce ne sono altri Questa quasi Proverai a scendere Allora Guardate Allora Allora Guardate Cogliamo un po' di labo, faccio un'altra maga Un po' di labo, faccio un po' di labo Troppato un casino di labo Troppato un po' di labo Vai così Liberiamo un po' di tizi che così Danno sempre ex Troppato un po' di labo Troppato un po' di labo Ovviamente me la fa quando non mi serve Non posso immagazzinarla e poi decidere io quando lanciarla Cosa Ogni volta me la f... Mi fotte Un po' di labo Un po' di labo Un po' di labo Ma andet Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Accogliamo tutto, riferiamo i prigionieri, passiamo questi. Vediamo un attimo ciò per caso. Ho già pergamene dell'Expo, robe simili, no, allora, sono quasi a metà livello però sono ancora lì, quindi ho quasi quasi. Vado lì e vado avanti con l'altra quest, perché? Merda, va così male, cavolo di azione. Beccatevi la pioggia di fulmini. Tuoni e saette. Ho droppato dalle scarpe, anche qua tanto non è che cambiano le cose. Va bene, i vision, movement speed sono simili ma sono meglio quelli che ho indosso. Questa è un'altra quest'è un'altra quest'è. Sì Temporalone Sì Temporalone Temporalone Sono appesantito Ma che cavolo Devo andare a vendere D'altronde 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 Ma di fatto adesso Sto Tornando Torno tipo al villaggetto qua sotto Non Mi ricordo più che cazzo Che volevo fare? Aiuto 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 Come si faccia dall'aspetto? Ok Sono senza anche Pozioni In più Sono appesantito Per cui le ho tutte Cavoli Dove c'è il cavallo Dove c'è il cavallo Dove c'è il cavallo Qua Dove c'è il cavallo Sì Nu Qua 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 Devo andare a vendere Perché sono quasi arrivato Ah no, qua c'è il mio cavallo Ma il vendor è giù Ebbè Ah no, qua c'è il mio cavallo Allora vendiamo tutto Questo lo vendiamo Questo lo vendiamo Questo lo vendiamo Ah perché ho droppato anche un po' di roba Allora vendiamo tutto C'è un map del timber Ehm, il cazzo non lo faccio Iron ore 1 Copper ore 3 Nivello, certo Tanto ne ho, sono pieni in bug Dog, eh non lo so cosa sia Lizard meat Carne di lucerto Questo lo vendiamo Scrappano Vabbè, intanto così Dovrebbe andar bene 93% Di peso Perché mi ha dato anche Degli ingot prima Niente, volevo andare a vedere Niente, mi sa che Quitto qui Di sotto C'è 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 C'è